Musica Generoso Test approda giorni in aula un regolamento per il compostaggio domestico e parallelamente la possibilità per i cittadini di iscriversi ad un albo per il compostaggio è un argomento che anche la sua associazione, il Movimento per i Dritti dei Cittadini aveva sollevato, aveva discusso anche in riunioni che si erano tenute a Palazzo di Città quindi immagino sia un motivo di soddisfazione Sì, soddisfazione ma relativa perché noi attendiamo che ci siano dei veri risultati innanzitutto che il Consiglio Comunale di Avellino approvi un regolamento in merito al compostaggio domestico noi stiamo sollecitando questo già da diversi mesi non l'abbiamo fatto per scritto, l'abbiamo fatto direttamente all'assessore a ramo Augusto Penna e lo stesso Augusto Penna aveva sollecitato in Consiglio il Presidente del Consiglio Petitto a poter realizzare questo regolamento per chi venisse approvato noi abbiamo cercato di fare pressione non soltanto sull'assessore perché questo significa poter dare due grossi vantaggi alla nostra città prima di tutto quello che riguarda il compostaggio e quindi l'utilizzo direttamente da parte cittadini della parte umida e quindi ci sarà meno prodotto che verrà raccolto da Irpini Ambiente secondo è economico e questo mi rivolgo soprattutto all'assessore al bilancio perché i cittadini con il compostaggio domestico potranno avere dei forti scondi sulla tariffazione, sulle tariffe dei rifiuti è sicuramente un tassello importante che a fianco al piano per la raccolta dovrebbe razionalizzare il sistema, dovrebbe comportare appunto un risparmio come diceva lei e anche un vantaggio per l'ambiente questa è l'altra parte della medaglia che comunque porterebbe degli ottimi risultati noi vediamo attualmente questa nuova gestione della raccolta differenziata si ha avuto delle difficoltà perché ci sono purtroppo anche i cittadini che non seguono quelle che sono le direttive imposte in modo corretto da parte del comune attraverso Irpini Ambiente o viceversa ma c'è anche un dato di fatto che l'assessore Irpini Ambiente sta ponendo dei correttivi necessari per esempio sull'orario del conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti e a questo si associa attraverso la possibilità di poter effettuare un compostaggio domestico una salvaguardia dei cittadini rispetto all'ambiente Ci sono altre istanze che la sua associazione si sente di voler presentare all'amministrazione cittadina? Beh innanzitutto credo che sia indispensabile aiutare i cittadini nel momento in cui verrà approvato questo regolamento sul compostaggio domestico affinché abbiano disponibili i contenitori da utilizzare per effettuare appunto questa raccolta dell'umido in modo diciamo privato e quindi fare in modo che Irpini Ambiente renda disponibili i contenitori per il compostaggio domestico Grazie a tutti